Tutti insieme, è una partita troppo importante. Oggi più che mai, noi siamo la Europa! La Europa! La Europa! Che importa? Il numero uno, Lucio! Sì! Numero due, Antonio! Luzide! Numero venti, Federico! Quattro! Numero quarantaquattro, Costa! Parola! Trento a tre, Heverson! Parola! Numero sedici, Daniele! Federico! Numero sei, Camus! Soppa! Undici, Mover! Soppa! Novanta due, Stefan! Soppa! Numero quattro, Bruagia! Parola! Numero nove, Camus! Soppa! A disposizione! Numero 18, Bogdano! Numero 19, Alisson Becca! Numero 3, Juan Jesus! Numero 15, Thomas Vermale! Numero 13, Bruno Perez! Numero 21, Mario Ruiz! Numero 7, Clemente Gredieri! Numero 30, Gerson! Numero 5, Paredes! Numero 8, Diego Perotti! È nato calciatore! È cresciuto mito! È diventato leggenda! Grazie, capitano! Numero 10, Francesco! Soppa! Allematore Luciano!